Quattro ore di lavoro per circa 30 volontari, una domenica mattina dedicata alla ripulitura del letto e degli argini del torrente Camignano nel quartiere di San Martino. Da venerdì sarà invece la volta dell'Università dei Muratori del Presidente Fabio Mariani per ripavimentare il tratto che nel novembre del 2013 è stato sconquassato dalla Forza dell'Acqua. Così la sinergia si è stretta con il Comitato Centro Ramazze che domenica ha preparato la zona per gli interventi che interesseranno tutto il fine settimana. Come detto, da venerdì arriveranno camion gru, scavatori, bobcat e seghe per risistemare i lastroni in modo tale che la potenza delle future bombe d'acqua non possa più ridurre quello scorcio meraviglioso del centro storico, un cumulo di detriti e di immondizia. Le Centro Ramazze si sono ritrovate domenica mattina per togliere carriole e carriole di terra, fango, erbe e radici che occupavano gran parte del letto nella zona sotto i ponti del quartiere di San Martino. Un lavoro faticoso che ha visto anche togliere i lastroni e ripulirli, appoggiarli ai bordi del torrente in attesa della loro nuova vita. Sporcizia raccolta, erba falciata, erbaccia che copriva le pareti e stirpata con molta pazienza, piantina per piantina, sino al tratto appena precedente Piazza San Giovanni. Ovviamente poi non poteva mancare la colazione offerta dalle signore di San Martino e dal ristorante L'Antico Frantoio, un modo per ringraziare i volontari che stanno curando l'immagine del centro storico. E ora l'appuntamento è per questo fine settimana.